oggi un video un po diverso oggi parliamo di scorfani ma non lo faremo come il solito soltanto teoria cioè sì ci sarà la teoria ci sarà una parte una grossa parte che riguarda la strumentazione ma questa volta il video lo voglio fare proprio a modo mio parlerò dei miei strumenti parleremo del mio tz t3 della furuno parleremo del mio black box il dff 3d anche del side scan di furuno insomma questo sarà un video un po diverso rispetto ai soliti oggi non voglio fare solo scuola voglio anche divertirmi voglio fare qualcosa di più di diverso vi voglio mostrare come vado a pescare io gli scorfani queste sono le cose che io ho installato nella mia barca ho uno strumento multifunzione il furuno tz t3 black box dff 3d più la sua sonda dedicata che una b54 come sonda uso la b265 lh la sonda che preferisco una sonda da un kilowatt e la bussola elettronica è una bussola elettronica satellitare questa vi parlerò in un video apposito più specificatamente perché ho scelto una bussola satellitare e non le classiche bussole magnetiche elettroniche sempre ma in questo caso proprio satellitare ci sono dei motivi specifici ma andiamo a vedere insieme come sviluppare questo tema la pesca del scorfano questo video non serve solo per gli scorfani serve per diciamo valutare e andare a trovare cercare pescare tutti i pesci che si trovano diciamo vicino delle strutture sommerse quindi possono essere pagri possono essere dentici scorfani ci possono essere tantissimi pesci pesce di fondo comunque pesce di fondo che si trova vicino delle strutture importanti subacquee può essere roccia può essere un relitto andiamo a vedere come sviluppare allora beh prima innanzitutto quando vado a pescare per me è fondamentale lo strumento lo sapete già io sono un amante degli strumenti e da quando che sono piccolo che uso gli strumenti quindi la mia battuta di pesca all'80 90 per cento è basata proprio sullo strumento potete togliermi tutto potete togliermi la cana da pesca le pesche tutto quello che volete ma lo strumento per favore lasciatemelo perché per me quello è la cosa che mi dà la quasi certezza di riuscire a portare a casa il pesce a riuscire a farlo mangiare a trovarlo a cercarlo come sapete è sempre più difficile trovare il pesce e senza uno strumento uno strumento valido è ancora più difficile non che non si possa fare però sicuramente è difficile allora questo questo video sarà composto di più parti ci sarà una parte che riguarda la studio della cartografia la ricerca che viene fatta con l'ecoscandaglio ricerca con il side scan questa è una nuova sonda di furuno vi farò vedere anche qua un piccolo video qualche screenshot di come si usa ricerca con il dff3d anche questa è una cosa un po' a parte lo so che non ce l'avete tutti però vi posso assicurare che sarà un video molto divertente perché riuscirete a vedere proprio con questi strumenti a mia disposizione come faccio per massimizzare l'azione di pesca dopo c'è la mappatura che viene fatta anche con il dff3d più tz t3 e per fine abbiamo anche il settaggio dell'ecoscandaglio cosa vi consiglio di fare come impostare l'ecoscandaglio per avere il massimo dello strumento va bene iniziamo allora studio della cartografia come al solito utilizzerò la cartografia di navionix che trovo online la cartografia navionix è questa la trovate anche sul vostro pc se avete un computer un personal computer esiste anche nella versione mobile la potete scaricare è un'applicazione tra l'altro funziona anche diciamo senza essere collegati alla rete internet quindi potete scaricarvi l'applicazione oppure se volete andare andare a dare un'occhiata proprio online la trovate proprio sul sito della navionix www.navionix.it andate sulla mia carta aspetta vediamo un attimo no spettatori eccolo qua su spettatori questa è la traduzione di google visualizzatore di grafici e trovate la cartografia eccoci qua qua adesso sono tornato agli estremi però non è un problema troppo bisogna fare un po' lentamente perché ci sono tanti dati e questa è la zona dove io concentro la mia pesca mare adriatico quindi come vedete la profondità è tutta tra i 45 e i 60 metri punti più profondi siamo a largo dell'isola di susac benissimo la prima cosa da fare sulla cartografia è passare nella visualizzazione sonar chart perché perché questa ci dà assolutamente più dettaglio adesso io vi farò vedere questa secca che utilizzerò come esempio ovviamente innanzitutto la pesca dello scorfano la pesca dello scorfano è una pesca un po' particolare non è è diversa rispetto gli altri tipi di pesca perché innanzitutto lo scorfano sull'ecoscandaglio non si riesce a distinguere noi non abbiamo un mark che corrisponde allo scorfano anche perché lo scorfano è proprio appoggiato al fondo quindi dobbiamo fare tutto un'altra serie di azioni per andarlo a cercare però sappiamo qualcosa dello scorfano sicuramente che è un pesce che ama stare vicino a delle strutture rocce relitti e sta in simbiosi diciamo ha bisogno di avere intorno pesce foraggio se non c'è un pesce difficilmente si riesce a trovargli lo scorfano lo scorfano è sempre circondato da pesce foraggio più o meno di secondo delle stagioni è un pesce che è abbastanza sensibile alla corrente non tutti i posti vanno bene perché dipende molto da che parte tira la corrente del mare ma questo lo vedremo anche dopo come si fa a capire calcolare tutto ed è un pesce che ti dà delle enormi soddisfazioni perché quando si riesce a trovare l'habitat giusto e la sua zona dove vive dove si riproduce dove caccia è veramente un pesce molto molto divertente io lo pesco con il sistema dell'inchiku è quello che mi piace di più con esca naturale morta aggiunta oppure senza e come vi ho mostrato le profondità dove di solito lo caccio vanno dai 40 ai 60 metri cartografia allora dobbiamo cercare innanzitutto una zona che ci sia roccia o ancora meglio la zona ideale per il pallo scorfano è una ghiaia o anche sabbia dove in alcuni punti escono delle rocce dal fondo o ci sono dei grandi massi o ci sono dei relitti ecco questo è proprio l'habitat ideale quindi un fondo piatto ghiaioso con ghiaioso o sabbioso con delle strutture che possono essere anche molto basse 20 30 centimetri un metro due metri possono essere anche più alte però già 20 30 centimetri sono sufficienti per creare l'habitat giusto per i nostri scorfani allora andiamo a vedere prima di tutto abbiamo detto studiamo la cartografia cerchiamo nella zona dove abitiamo le zone con queste caratteristiche ghiaia e se sappiamo che ci sono delle rocce isolate o relitti sicuramente sono punti interessanti la seconda cosa da fare è utilizzare l'ecoscandaglio eccoci qua l'ecoscandaglio svolge di nuovo un ruolo importantissimo perché ci permette di andare a vedere la struttura del fondo cosa abbiamo proprio sul fondo se ci sono target se c'è pesce foraggio e come va impostato come vedete anche da questa immagine qui io sto usando uno shift la velocità di scorrimento è sempre uno a uno il gain e clatter vanno regolati molto bene sono due parametri fondamentali per riuscire a identificare bene i target attenzione che questi non sono target di scorfani però da questo screenshot si riesce comunque a vedere si riesce a fare un'analisi del fondo questa zona che vedete qua ecco non riesco ad andare troppo in là questa zona qui mi indica che il fondo ha una struttura ghiaiosa in questo caso mista con delle rocce piccole quindi ghiaia diciamo una cosa del genere e c'è comunque un piccolo strato di vegetazione alga questa riga sottile bianca che vedete qui sotto vi sto mostrando adesso con il dito quella è la white line e la riga bianca che si può impostare sempre sull'ecoscandaglio che serve per dividere proprio il fondo da quello che sta sopra il fondo quando un bordo fatto in quel modo lì vuol dire che il fondo ha comunque della vegetazione non sono alghe non è posidonia 44 45 metri qui non si trova la posidonia però comunque ci sono delle alghe delle strutture di piccoli coralli tutta una serie di cose che rendono l'ambiente e l'habitat proprio perfetto per gli scofani esiste anche la possibilità di fare la ricerca degli hotspot tramite side scan questo è un accessorio che è da pochissimo disponibile nel brand Furuno io l'ho potuto usare proprio ultimamente ho fatto anche un video vi linko qua sopra appunto il video dove spiego un po' questo trasduttore come funziona come va collegato anche sulla macchina e cosa si riesce a fare non sono riuscito ancora a provarlo direttamente in pesca anche perché dicembre adesso siamo in gennaio le prove le ho fatte praticamente in dicembre però ci sono veramente delle ottime possibilità di avere dei risultati spettacolari ha una gittata pazzesca riesce a vedere veramente lontano riesce a vedere a 150 200 250 metri della barca e questo può essere fondamentale per la ricerca di scogli o relitti vi faccio vedere un piccolo video che è quello che avevo fatto proprio quando l'ho testato considerate che in quel momento in realtà le condizioni del mare non erano neanche perfette quindi non sono potuto andare a largo eccetera però già da questo si possono capire tante cose le potenzialità di questo sistema il side vision utilizza una sonda che è una forma stretta e lunga e ha due lame praticamente che sono di 90 gradi ciascuna verso i due lati della barca destra e sinistra se ci sono delle strutture summerse a una certa distanza fino appunto a 250 300 metri si riescono a vedere esattamente sul nostro schermo noi possiamo mettere un waypoint e dopo con la barca tornarci sopra per fare questo bisogna avere delle condizioni particolari la barca non deve andare velocissima non può essere neanche ferma ma tra i tre e i cinque nodi il mare deve essere calmo la rotta deve essere costante però in questo modo riusciamo tranquillamente a marcare cercare, marcare e trovare hotspot che se no sarebbero assolutamente invisibili io nel mio piccolo facendo il giro proprio nella baia di Lussino in un chilometro di strada ho trovato tre delitti di cui non conoscevo assolutamente l'esistenza e sicuramente in quei posti riuscirò a trovare dei pesce perché anche i locali non conoscono quel posto però andiamo a vedere il video ecco senza le mie facce quello che vedete in basso a destra è proprio la visione del side scan come vedete abbiamo due bande laterali più una colonna centrale nera allora la barca si trova in centro della colonna nera la colonna nera è l'acqua che sta sotto la barca e quello che vedete a destra e a sinistra è la rappresentazione grafica della superficie del fondo il side scan può essere utilizzato anche per andare a cercare i pesci però è molto molto più utile per andare a vedere com'è la struttura del fondo allora qui avevo visto un qualcosa che mi interessava c'era un mark proprio sul side scan l'ho segnato, ho utilizzato questo waypoint e adesso ci sto tornando sopra con la barca proprio per andare a vedere con l'ecoscandaglio cosa abbiamo bene qui possiamo accelerare un po' vediamo un po' ecco qua come vedete già in prossimità del mark andiamo a trovare del pesce foraggio in questo momento non sto utilizzando lo shift come vedete l'ecoscandaglio lo sto utilizzando proprio standard dirò di più questo non è neanche il trasduttore del fish finder del tz t3 ma sto utilizzando il modulo df f3d in modalità ecoscandaglio quindi questo non mi farà mai in mark in un certo modo ecco adesso abbiamo trovato il relitto come vedete è un relitto che ha circa un metro e mezzo due metri si alza dal fondo sui 35 metri c'è il pesce foraggio vado a mettere un nuovo punto in modo da poterlo riconoscere eccolo qui lo vedete in alto a destra e adesso ho marcato nel modo corretto anche il relitto perché ho dovuto mettere due waypoint perché quando io uso il side vision e vado a mettere un waypoint purtroppo questo genera un errore che è determinato proprio dalla profondità quindi bisogna sempre fare un secondo passaggio per andare a segnare il punto comunque anche la mappatura con il df f3d mi ha segnato perfettamente il relitto che lo vedete lì adesso con questa piccola leggenda io sono in grado di capire la distanza della barca dove si trova e riesco come vedete anche a vederlo veramente in modo perfetto andiamo ancora un po' avanti ecco qua si vede proprio bene come si riesce a notare il relitto sul fondo utilizzando il side vision non vedo l'ora di usarlo quest'estate sinceramente perché ci sono sicuramente tantissimi posti che meritano di essere scoperti e testati queste due banane che vi sto indicando adesso in questo momento con le frecce queste non sono cose che stanno sul fondo queste sono delle scie in superficie della mia barca che ha fatto le virate e anche quelle visto che rimangono turbolenze e bollicine d'aria nell'acqua vengono evidenziate tranquillamente dal nostro side vision come vedete qui siamo a una profondità di 35 metri e la portata adesso è 250 metri la seconda cosa da fare cioè il secondo modo da fare il secondo modo che si può utilizzare nella ricerca dello scorfano è utilizzare il DFF3D il DFF3D ha diverse funzionalità innanzitutto cos'è il DFF3D? è un multi beam della FUR1 che è un black box che va collegato al nostro TZT3 ed ha un trasduttore particolare che è formato da 40 beam quindi 40 piccoli trasduttori messi tutti uno vicino all'altro ha un cono di irraggiamento molto largo 120 gradi grazie a questi piccoli coni che ciascun cono ha 3 gradi riesce a mappare perfettamente il fondo quando noi passiamo con la barca e quindi ci avvisa se trova delle strutture se ci sono delle rocce a 40 50 metri non è facilissimo da interpretare perché non è così definito e preciso come può essere una sonda CIRP da un kilowatt in questo caso ma anche la B150M potrebbe andare bene che riesce comunque a farti anche un'analisi del fondo il DFF3D è sicuramente molto valido per vedere la struttura del fondo ma non cosa contiene quel fondo non so se mi sono spiegato bene se ci sono alghe, piccoli pesci, queste cose qua si riescono a vedere tanto meglio con l'ecoscandaglio classico il DFF3D lo utilizziamo per un altro scopo non per l'uso ecoscandaglio sono due cose diverse ecco appunto una cosa fondamentale è la mappatura con il DFF3D grazie a questi 40 BIM il DFF3D è in grado di fare la mappatura del fondo vi faccio vedere proprio una mappatura fatta con il DFF3D questa che vi mostro in questo momento questa riga viola con queste freccine che si muovono era la rotta che stavo seguendo senza piloto automatico ero con la navigazione manuale ma questa era la rotta sulla rotta avevo trovato un punto interessante che è questo punto qui viola che vi sto mostrando adesso quindi quando sono arrivato ho rallentato ho lasciato sempre la traccia attiva mi raccomando la traccia è fondamentale per riuscire a vedere dove siamo passati e quindi che direzione abbiamo preso con la barca ho girato a sinistra e ho trovato queste prime rocce qui sul fondo come vedete adesso dopo aver fatto una piccola rotazione con la barca grazie al DFF3D inizio a fare tutta la mappatura di questi scogli a destra vedete l'ecoscandaglio adesso ho aumentato un po' lo shift qua siamo a una profondità tra i 54, 56, 58, 60 metri ho messo una color line un po' particolare verde stavo provando altre colorazioni rispetto alle classiche che uso sempre questi che vedete qui accanto alle rocce sono proprio dei mark molto interessanti sono dei pesci probabilmente sono pagelli abbastanza grandi da valutare cioè da farvi notare immediatamente è l'altezza di queste rocce stiamo parlando di rocce che sono sull'ordine dei 50 cioè il punto più alto arriva neanche a 56 metri il punto più basso siamo circa 59 questo vuol dire che queste rocce sono alte 3 metri non si tratta di rocce molto elevate se io non avessi usato lo shift in questo momento nella navigazione vi assicuro che queste rocce erano quasi invisibili è importantissimo veramente importantissimo utilizzare lo shift in queste situazioni perché così riusciamo ad ampliare tutto quello che si trova sul fondo e trovare un hotspot come questo che vi posso assicurare che mi ha dato delle grandi soddisfazioni in questo posto ho preso tanti pesci è veramente importante ma se lo può ottenere soltanto utilizzando lo shift shift, gain, clutter, tutto regolato, puntino ci permette di avere questo risultato sullo schermo setting ecoscandaglio prima di tutto bisogna scegliere la frequenza se stiamo cercando i target vi consiglio assolutamente di utilizzare una frequenza bassa per avere un cono più ampio se voi avete una B275LH wide non vi serve andare sulla bassa potete rimanere anche sulla alta perché tanto avete due coni molto simili ma diciamo che in ricerca è meglio utilizzare sempre un cono ampio ma si può utilizzare anche per fare l'analisi del fondo perché se non siamo a profondità molto elevate i 50 KHz della mia sonda che corrispondono circa a 22-23 gradi sono la misura giusta per comunque riuscire anche a capire più o meno la struttura del fondo come viene fatta quindi prima di tutto scegliamo la frequenza vi ho detto, vi ho anticipato bassa frequenza la seconda cosa da fare è utilizzare lo shift o spostamento si chiama in questi due modi qua che ti permette di ingrandire la parte bassa del fondo cercate di non usare lo zoom lo so che è più semplice di solito è più immediato dopo vi lasciate tutta la colonna d'acqua in vista ma lo shift funziona molto meglio è in grado di definire molto meglio i target e vedere molto meglio l'analisi del fondo la struttura del fondo terza cosa da fare regoliamo il gain una volta selezionata la zona dove abbiamo il fondo per un 3-4 metri sopra un 2 metri sotto andiamo a regolare esattamente il gain per pulire lo schermo non avere sporco diciamo però avere il massimo della sensibilità quattra cosa quarta cosa utilizziamo il clatter cominciamo ad alzare il clatter vedrete che come alziamo il clatter si abbassa il livello del gain ecco questa è un'altra cosa importante perché quando abbiamo fatto questo bisogna praticamente tornare ad alzare di nuovo il gain quindi è un passaggio questo gain e clatter che si deve fare in più volte quindi si aumenta il gain si aumenta il clatter si aumenta di nuovo il gain fino a trovare la visione perfetta del nostro schermo se vogliamo possiamo utilizzare anche un po' di cancella colore mi raccomando pochissimo da 1 a 10 io direi 1, 2 massimo 3 non di più per togliere proprio qualche disturbino in più in modo da poter aumentare ancora il gain e il clatter e a questo punto abbiamo sicuramente l'ecoscandaglio tarato bene cosa succede quando abbiamo l'ecoscandaglio messo a posto e tutto messo bene possiamo fare finalmente un'analisi l'analisi dell'habitat perché stiamo cercando gli scorfani quindi lo scorfano vive in un certo habitat e dobbiamo tenere presente questo rocce abbiamo detto ghiaione intorno e dobbiamo andare a cercare intorno alle rocce proprio il pesce che ci interessa quindi prima cosa studio delle strutture tutto quello che si trova sul fondo bisogna cercare di capire esattamente cos'è e come è composto le strutture si possono per esempio studiare molto bene con il DFF3D qui vi faccio vedere questo è un esempio questo è il triplo ecoscandaglio che è in grado di generare il DFF3D e in questo caso vediamo la linea di fondo e vediamo del pesce foraggio quello che vedete sotto invece è l'ecoscandaglio standard questo è con la bassa frequenza qui a sinistra abbiamo la mappatura del fondo quindi c'è la barca che si muove e mi fa la mappatura mi mostra tutte le rocce che si trovano sul fondo e qui sopra abbiamo il live cioè in diretta quello che sta succedendo ecco io in questo caso utilizzo il triplo ecoscandaglio ecoscandaglio normale per avere il massimo dei dati su quello che sto cercando e su quello che si trova sul fondo la seconda cosa da fare è la ricerca del pesce foraggio difficilmente troverete degli scorfani dove non vedete neanche un pesce ci deve essere vita quindi concentratevi sulle zone dove trovate più pesce foraggio più vita un'altra cosa quando trovate una secca e dopo vi mostrerò meglio questa cosa qua e c'è un po' di corrente vedrete che il pesce non si distribuisce uguale da tutte le parti della secca bisogna insistere in alcune zone ma è una cosa che fra poco arriva adesso vi spiegherò anche questo pesce foraggio qui abbiamo un relitto come vedete è spostato tutto da un lato allora alla mia sinistra c'è la sinistra dello schermo questa è la visione con la bassa frequenza il 50 kHz qui abbiamo a destra invece l'alta frequenza questo è un relitto che è alto dai 53 ai 46 metri quindi vuol dire che abbiamo circa 7 metri di altezza questo relitto non è un relitto gigantesco ricordatevi che io sto usando sempre lo shift qui vedete anche la differenza di come vengono segnati i mark rispetto alla frequenza però in questo momento non è una cosa che proprio ci interessa tanto comunque andiamo in cerca del pesce foraggio anche per capire da che parte arriva la corrente terza cosa analisi appunto delle condizioni della corrente quarta posizionamento barca ecco questo è anche un punto abbastanza delicato quando si va a caccia di scorfani non si può andare un po' a casaccio bisogna essere abbastanza precisi nella pesca perché lo scorfano è un pesce molto stanziale e rimane in quella zona se noi abbiamo l'esca che gli passa 3, 4, 5 metri distante è molto probabile che non riusciamo a pescarlo dobbiamo passargli vicino un metro, un metro e mezzo, due metri al massimo e questa è l'altra parte del video che avevo proprio piacere di mostrarvi spero vi piaccia lasciatemi un commento dopo in modo che io sappia se devo continuare con questo tipo di rappresentazioni di schemi se sono effettivamente d'aiuto oppure no allora qui abbiamo ho preso da sempre della Navionics una piccola mappa dove c'è una secca considerate che questa è abbastanza grande in realtà quando peschiamo gli scorfani bastano strutture molto più piccole però il principio è identico siamo in una situazione di vento una certa direzione e intensità e corrente anche una certa direzione e intensità e abbiamo la nostra barca come dobbiamo approcciare questa secca la prima cosa da fare è capire che se la corrente arriva in una certa direzione il pesce tenderà a stare da questo lato della secca attenzione che non sto parlando di corrente superficiale non lasciatevi imbrogliare della corrente che si trova nei primi strati dell'acqua uno, due, tre metri perché quella è molto spesso determinata anche dal vento a noi interessa la corrente che sta sotto come si fa a capire da dove arriva la corrente bisogna fermarsi con la barca con GPS ci si aiuta a stare fermi e si cala un piombo con un filo multifibre molto sottile e si vede da che parte tira se la corrente è molto molto leggera questo vuol dire sotto il mezzo nodo sotto il 0,3, 0,2 non ci sono grandi problemi si può andare in giro dappertutto a cercare il pesce ma se la corrente è superiore è 0,2, 0,3, 0,5 sicuramente abbiamo una concentrazione di pesce superiore su un lato dove ci sono questi pallini rossi io se fossi con la mia barca in questa situazione dopo aver fatto comunque una scandagliata con l'ecoscandaglio mi concentrerei in queste zone qua come faccio? posiziono la barca in una certa posizione appunto e con il vento e la corrente questa seguirà una certa direzione benissimo la barca si muove segue questa direzione ma siamo sicuri che stiamo pescando nei punti giusti? no perché per colpa della corrente le nostre esche staranno sempre a una certa distanza della barca soprattutto con la barca che va allo scarroccio alla deriva allora il vento tende a spostare la barca in una certa direzione e ci mette di solito proprio ortogonali rispetto al vento se abbiamo dei fuori bordo eccetera magari può girare un po' però cambia poco comunque la direzione che prendiamo è sempre una risultante tra la corrente e il vento ma le esche che stanno in mare che sono giù a 40-50 metri di profondità non sono soggette al vento sono soggette soltanto alla corrente e quindi si spostano di una certa distanza rispetto alla barca e visto che la barca viaggia anche con il vento si spostano anche nella direzione da in cui arriva il vento quindi più o meno la zona delle nostre esche è questa qui questo pallino blu questo vuol dire che se noi vogliamo pescare sui pallini rossi che abbiamo detto prima è la zona che dovrebbe essere migliore per la nostra pesca dobbiamo spostarci dobbiamo traslare dobbiamo mettere la barca più diciamo controcorrente non tanto del vento ma appunto della corrente in modo da riuscire a portare le nostre esche esattamente nella zona che ci interessa alla fine abbiamo ancora l'azione in pesca che è determinata proprio dalla situazione in cui ci troviamo e la nostra scelta può cadere anche se usare un ancora o andare allo scarroccio io per la pesca dei discorfani vi consiglio lo scarroccio se non avete una barca che è proprio scarroccia velocissima è comunque una tecnica lo scarroccio che ti porta ad avere dei risultati migliori questo perché si riesce a fare tantissima più acqua vanno bene anche le ancore elettriche motor guide garmin mincota sono ottime sicuramente però non concentratevi in un punto solo cercate di far comunque far fare la barca un certo movimento anche a una velocità molto bassa 0.1 0.2 0.3 nodi però è bene che la barca un po' si muova perché riusciremo sicuramente a trovare più facilmente il pesce un po' si muova Grazie.